Io purtroppo ho una venerante età, ho visto quanto frequentavo prima media nel 1953, quindi veramente a metà dell'altro secolo, ho visto sorgere in questa città una quantità enorme di iniziative e purtroppo queste iniziative non hanno avuto molto tempo a disposizione perché la divisione che purtroppo continuava a serpeggiare nei nostri isolati faceva sì che altri si attimassero, ne spostassero, ne cambiassero. Una delle cose più belle che mi ha fatto veramente più piacere, visto ormai i preti dei miei anni, è l'anno scorso quando abbiamo iniziato a discutere del Duco e quando con Angelo Sacco abbiamo detto noi non ci facciamo la guerra, cerchiamo insieme di aiutare i commercianti ad essere solidari, cioè fare il possibile perché Viena ritorni e abbia riconquisti quello spazio che aveva, quel posto che aveva, ma soprattutto torni ad essere quella città che ci faceva un po' invidiare in giro per l'Italia e spervettetemi anche in giro per l'Europa. Abbiamo purtroppo lasciato il nostro compratello l'altro giorno che comunque era conosciuto in tutto il mondo, ma non c'era solo uno. Noi avevamo veramente di grandi rapporti con tutto il mondo. Viena era conosciuta in tutto il mondo. Dobbiamo fare il possibile perché torni ad essere quella città. Dicevo l'altro giorno in un'intervista di fare a Corsato che in fondo è il commercio che trascina tutto il resto dell'economia. I grandi centri commerciali sono stati quelli attorno ai quali si sono ricreati nazioni, si sono ricreati idee, si è rifatta buona parte della nostra civiltà. Ecco, Viena è stata per secoli un meraviglioso ilvesario, dove la gente doveva venire a Viena per conoscerci, ma ci conosceva ed eravamo veramente conosciuti tutti. Dobbiamo ritornare a dare questo senso. Lo facciamo senza litigare, collaborando tra di noi con molta realtà e molta solidarietà. Questo è il messaggio di un'associazione di commercianti che per anni ha letto determinate funzioni in questa città, ma che vuole a tutti i costi, in collaborazione e con serietà, fare il possibile che le iniziative che nella cabina di Legia, collaborando, creeremo, siano iniziative di tutti, siano iniziative che aiutino la nostra città e tutti i biellese a crescere. Grazie. Grazie.